Il piccolo largo a Campobasso dedicato al parlamentare comunista Nicola Crapsi è situato nei pressi di via Cardarelli in uno stato di forte degrado, segno del non rispetto del luogo ma anche del personaggio storico a cui è intitolato. Ma andiamo a vedere questo contributo. Nicola Crapsi è stato deputato alla Camera dei Deputati dal 1963 al 1965 ed ha marcato una presenza assai significativa rappresentando in quella sede il Partito Comunista Italiano del quale in Molise era uno dei massimi dirigenti. Era nato a Santa Croce di Magliano ma si era spostato molte volte nel corso della sua vita a causa del lavoro finendo a Campobasso per dirigere il PC da segretario provinciale. Protagonista di una storia complessa fu recuperato storicamente a Campobasso attraverso la dedica di un luogo, un piccolo largo attrezzato con delle panchine situato all'ingrocio tra via Cardarelli e via Garibaldi. Una sorta di piccola oasi che oggi si presenta in uno stato di forte degrado con la pavimentazione rotta piena di calcinacci con il marciapiede adiacente sconnesso e rovinato. Una visione dunque di totale disattenzione, peggiorata dalla presenza dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti che deturpano di fatto l'intero concetto di utilizzo per i cittadini di un luogo dove fermarsi e riprendere fiato nei vari giri in questa zona della città. Un degrado che mortifica di certo il luogo ma che diventa nel concreto anche deleterio per la figura storica dell'uomo a cui il sito è dedicato, lasciandolo nel più totale oblio, nella massima incuria e nella più complessiva rimozione culturale.